Buonasera, ben trovati con l'informazione di Rete 55. Iniziamo subito il nostro Tg con una notizia di cronaca. Uno schianto mortale a Gornate Olona è accaduto ieri, poco dopo le 22, quando due auto sono entrate in collisione in via dell'Industrie. In località Torba, un uomo di 51 anni è deceduto sul colpo. Un altro è stato trasportato d'urgenza in ospedale in gravi condizioni. Ed ora torniamo a parlare dell'aggressione a coltellate subita da un insegnante dell'ENAIP a Varese da parte di uno studente, un 17enne, ora accusato di tentato omicidio. Il clamore suscitato dal fatto ha spinto il prefetto di Varese a convocare esponenti regionali e vertici lombardi di ENAIP a un confronto con i media locali. I dettagli con Matteo Inzaghi. Il dramma dell'ENAIP con la docente Sara, coltellata da uno studente di 17 anni, arrestato per tentato omicidio, approda sul tavolo della prefettura grazie all'interessamento del prefetto Salvatore Pasquariello, particolarmente attivo e sensibile sul fronte del disagio giovanile. Tra i relatori il dirigente dell'ufficio scolastico Giuseppe Carcano, il quale va dritto al punto educativo. Quanto accaduto è terribile, ma non abdichiamo al nostro compito primario, lavorare, affinché i ragazzi che sbagliano vengano recuperati. Il direttore regionale di ENAIP, Giovanni Colombo, ricorda il valore aggiunto educativo e sociale di una galassia lombarda composta da 4.500 studenti e uno sbocco professionale di oltre il 90%, mentre il presidente Martino Troncatti attribuisce quanto avvenuto a un disagio, reso ancora più drammatico dalla pandemia. Teniamo anche conto che noi siamo usciti da un Covid dove i ragazzi sono stati chiusi in casa per quasi due anni e dove alcuni effetti, e non lo dico per giustificazionismo, sicuramente anche questa vicenda ce l'ha. Da Regione Lombardia parla l'assessore Simona Tironi, la quale, dopo il vertice, ha incontrato l'insegnante ferita all'ospedale di Circole che difende con forza gli istituti professionali Lombardia, auspicando un patto tra scuole e famiglie per stringere un'alleanza di ampio respiro. La scuola da sola non può fare tutto, ci deve essere un patto sociale e culturale ben stretto tra l'istituzione vista come scuola e anche la famiglia che ha un ruolo ancora fondamentale di responsabilità nelle vite dei nostri ragazzi. Già finanziata, chi osa la presenza massiccia e quotidiana di psicologi ed esperti a disposizione delle scuole, Marco Magrini, presidente della provincia, assicura la vicinanza istituzionale dell'ente e delle sue indubbie competenze in termini formativi, mentre l'assessore comunale, Rossella Di Maggio, insiste sulla responsabilità educativa che, mai come oggi, grava sull'intero mondo degli adulti, non solo sulla scuola. Più in generale i partecipanti al tavolo si dicono pronti a lavorare fianco a fianco sul fronte della dispersione scolastica e su un abbondante 20% di giovani e giovanissimi che non studiano e non lavorano. Ma se è vero che le difficoltà non mancano, l'allarmismo non giova a nessuno. Ma lei ritiene che ci sia un allarme di sicurezza nelle scuole di questo territorio o no? Assolutamente no. Restiamo in tema e ascoltiamo il direttore di ENAIP Lombardia, il quale si sofferma sull'aggressione, sull'aggredita e su alcune delle ipotesi più accreditate. Prima di tutto un pensiero alla docente ferita, ora in via di guarigione. Ha subito chiesto come stesse il suo aggressore, il 17enne, accusato di tentato omicidio. Questa sensibilità, evidenzia il direttore di ENAIP Lombardia, è la cifra del nostro rapporto con i ragazzi, cifra che abbiamo ribadito a tutela dello stesso studente rinchiuso al Beccaria. Ho chiesto al mio collaboratore che opera lì, vai a capire come sta, dov'è. Perché voi immaginate questo ragazzino qua, di 17 anni, in questo momento, frastornato, che forse non si rende neanche conto di quello che ha fatto, eccetera, messo in un istituto penitenziario. Un giovane, continua Colombo, che l'educatrice seguiva da tre anni e che mai ha dato segni di aggressività. Non ha mai dato segnali di aggressività, eccetera. È un ragazzo che ha una diagnosi funzionale ben definita. E se dietro al suo gesto ci fosse davvero l'appaventata bocciatura? Qualcuno di voi ha figli? Ha suo figlio. Studia perché ti bocciano, gliel'avrà detto qualche volta. Quindi, studia perché se non ti boccia, ti bocciamo, magari può anche essere stato detto, non lo so. Non è che siamo lì quotidianamente a capire, però... Ma allora, cos'è accaduto? Ovviamente, cosa gli è passato per la testa? Senza segnali precedenti, senza situazioni precedenti, onestamente non sappiamo. Ci dispiace per questo ragazzo, per la famiglia, perché anche la famiglia starà affrontando una situazione complicata, con un figlio che si è trovato a 17 anni incensurato al beccaria da un giorno all'altro. Ma di disagio giovanile ha parlato anche un'altra esponente regionale, Lara Magoni, un'ex campionessa, oggi sottosegretario, in visita ai centri sportivi di Gavirate. Lo sport favorisce una crescita sana, condivisa, mette i più giovani alla prova per qualche ora, che fa davvero la differenza, alla larga dai cellulari, a contatto con gli altri. Parola di sportiva, campionessa ed esponente politica. Lara Magoni, sottosegretario regionale, ha accolto con entusiasmo l'invito di Simone Foti tra le eccellenze sportive di Gavirate. Da sportiva quale sono, naturalmente conoscevo la consistenza di questa bella cittadina, ma soprattutto il grande impegno che ci mette nel mondo dello sport, valori che per noi sono fondamentali in un momento in cui la società ha un bisogno estremo di fare sport. Sport come unico strumento universale di aggregazione e di inclusione e di buona prassi. Queste in effetti sono parole importanti, sono giorni in cui Varese è turbata da ciò che è accaduto all'ENAIP con l'accoltellamento di una docente. Lei dice che lo sport ha anche una funzione deterrente oltre che educativa. Assolutamente sì, consideriamo che il Presidente Fontana, dandomi questa delega, mi ha chiesto fortemente di utilizzare questo strumento proprio per l'inclusione e l'aggregazione, che è l'unico modo per far sì che i nostri figli possano rientrare in quel mondo e guardarsi in faccia. Parole condivise dall'assessore regionale Francesca Caruso a fianco di Magoni nel sopralluogo gaviratese. La cultura dico salva dal disagio sociale, dal disagio giovanile, così come lo sport che ai nostri ragazzi insegna il sacrificio, le regole, il rispetto. La giornata è partita dal centro sportivo Vittorio Anessi e dall'incontro col Gavirate Calcio, storia lunga 103 anni, presieduta da Massimo Foghinazzi. Poi l'atletica gavirate rappresentata da Andrea Roncari, Silvia Soldani e lo showy team Karate. Prima di spostarsi al prestigioso ABBA australiano e infine alla canottieri gavirate, Magoni ha raccolto dettagli, racconti e fiori all'occhiello di realtà radicate, frequentate, conosciute ovunque, ma anche le istanze di un impianto che attende alcuni interventi di miglioria, ad esempio sulla pista di atletica e sugli spalti ancora privi di seggiolini. Soddisfatto l'organizzatore dell'iniziativa, Simone Foti, reduce dalla giornata organizzata a scuola con l'esponente di governo Farsinetti e dal tour condiviso con Caruso in alcune perle culturali della cittadina. I nostri territori hanno bisogno di questi contatti per far crescere le nostre comunità. Prima di chiudere un gradito fuori programma alcune delle tante pettoline collezionate da Magoni nella sua straordinaria carriera agonistica. E sempre a proposito di disagio, oggi si celebra la giornata della lotta contro il bullismo e cyberbullismo e Chiara Milani ci porta a Busso Arsizio. Ne soffre ben un undicenne ogni cinque. Un fenomeno impreoccupante aumento, quello del cyberbullismo, soprattutto tra i preadolescenti, una generazione iperconnessa che naviga sempre di più su internet senza supervisione degli adulti e tra cui sono sempre più diffusi social media. Nella giornata nazionale contro bullismo e cyberbullismo, ASST Vallolona ricorda che il bullismo fa male anche se è virtuale. La prevaricazione, intenzionale e duratura nel tempo, compiuta da un individuo o da un gruppo di individui a danno di un altro e impossibilitato a difendersi, caratterizza il bullismo ma è amplificata dal bullismo online o cyberbullismo che usa internet e le tecnologie digitali eliminando la presenza corporea e colpendo la vittima ovunque e in qualunque momento generando in tal modo un devastante senso di impotenza che comporta conseguenze psicologiche variabili ma sempre rilevanti. Le vittime raramente parlano della propria sofferenza e difficilmente giungono all'osservazione dei servizi specialistici. Per vergogna o per sfiducia nella possibilità di ricevere aiuto anche se ci sono dei campanelli d'allarme che sono da rintracciare nei comportamenti quotidiani dei ragazzi. Intervento psicologico specialistico può aiutare a costruire una prospettiva positiva sul futuro ma prevenzione ed educazione rimangono prioritarie anche perché ancora troppo spesso soprattutto nel caso del bullismo online la comunicazione tra adulti e ragazzi non è ottimale né lo è la percezione della gravità degli atti aggressivi sia nei genitori sia negli adolescenti. Per questo si può e si deve fare ancora molto. E ancora i centri per la famiglia di Soma Lombardo, Lonate Pozzolo e Cardano al campo sportelli di incontro e di ascolto che cercano di sostenere la famiglia alle prese con disagio e fragilità. Mettere la persona al centro qualunque età abbia, qualunque sia il suo percorso, lavorando al suo fianco per azzerarne la solitudine, fornirle strumenti formativi e informativi che contribuiscano ad alleviarne le fragilità. Questi alcuni dei tanti obiettivi dei centri per la famiglia che fanno riferimento all'ambito distrattuale di Soma Lombardo e nascono su finanziamento di Regione Lombardia e su impulso della cooperativa Il Seme. Attivi a Lonate Pozzolo e Cardano al campo, i centri vedranno presto l'apertura di un nuovo sportello proprio a Somma nel nome di una missione riassunta in tre passaggi «Ti accolgo, ti accompagno, non ti abbandono». Al via un ciclo di eventi dedicati espressamente agli adolescenti. Lunedì 19 febbraio alle 20.30 nella Biblioteca di Somma. Un focus rivolto agli adulti affinché possano avvicinarsi più facilmente al mondo virtuale frequentato dai ragazzi. Il 4 marzo invece un incontro dedicato alle paure degli adulti rispetto alle nuove forme di disagio giovanile. Chiudiamo la lunga pagina dedicata alle criticità giovanili per la crona che ci porta a Calde, frazione di Castelveccana, che purtroppo porta i segni del vandalismo. È quanto testimonia Trenord che stigmatizza gli atti di teppismo sferrati contro le macchinette per la convalida del biglietto collocate in stazione. Come mostrano queste immagini, sono state danneggiate dai gnoti. La riparazione costerà circa 4.000 euro. Al via alla raccolta del farmaco in campo nel Varesotto, 145 negozi e un esercito di volontari. Un circolo virtuoso che giova a chi ha bisogno è al cuore della società. Così il Banco Farmaceutico introduce la nuova edizione della raccolta solidale del farmaco avviata nelle scorse ore in chiusura lunedì 12 febbraio. Delle 5.600 farmacie coinvolte in tutta Italia, sono 145 quelli presenti a Varese, coadiuvate da un esercito di volontari. Quest'anno verranno coinvolti in maniera più capillare associazioni come la Croce Rossa e gli Alpini che condividono lo stesso spirito di assistenza e di aiuto a chi è in difficoltà. Alla comunità si chiede un po' di tempo e un piccolo gesto nella consapevolezza che nel nostro paese sono quasi mezzo milione le persone in attesa di medicinali. Per loro diverse associazioni sono pronte a mobilitarsi. E' importante dire che questi farmaci verranno poi dati a associazioni, enti di beneficenza che si occupano appunto di aiuto alle persone disagiate. Ci trasferiamo a Gallarate perché è stato presentato un progetto che riprende la storia della città dei Due Galli attraverso luci e colori. Ascoltiamo i dettagli. Ritrovare identità e radici dell'antico borgo perduto di una Gallarate del passato viva e piena di attività in centro attraverso l'illuminazione artistica nel progetto Gallarate Lightscape presentato questa mattina a Palazzo Borghi da amministrazione comunale e commercianti. Si è finita la parte burocratica per l'assegnazione dell'incarico e ci sarà il nostro grande Romano Baratta che è un personaggio conosciuto non solo in Italia e si è studiato in questi mesi precedenti tutta la città di notte come è illuminata e come sarà illuminata ed è un progetto che ci permetterà anche di enfatizzare la parte marketing della città di Gallarate attraverso l'illuminazione non più decorativa ma è un'illuminazione artistica. Dal verde che ricorda l'antico faggetto all'azzurro dei torrenti, il rosso per le vecchie beccarie. Sarà un'illuminazione che valorizzerà la storia e l'identità di Gallarate e quindi l'essenza antica, quella che è raccolta all'interno del centro storico che pochi conoscono perché poi Gallarate è conosciuta sia dai cittadini ma anche al di fuori per la sua importanza nell'età moderna, quindi quella industriale. Si scoprirà una Gallarate quasi nascosta. L'illuminazione aiuterà a far conoscere il motivo per cui è nata Gallarate, quelle piazze a cosa erano adibite oppure anche come erano posizionati alcuni monumenti oltre chiaramente a valorizzare l'esistente, quindi la pavimentazione, i monumenti, alcuni particolari che vengono messi in ombra dall'attuale illuminazione. Una ventina le convenzioni tra commercianti e comune di Busto Arsizio che rinnova l'appello a farsi avanti. A tuttora sono 20 che hanno già aderito, hanno già formalizzato le richieste e il senso 5 o 6 in attesa. L'assessore al personale di Busto Arsizio Mario Cislaghi spiega così il riscontro avuto finora dall'invito rivolto ai negozi affinché creino convenzioni per i dipendenti comunali. Io però colgo questa possibilità di raccomandare a tutti di aderire perché qui sono 400 persone, persone femminili sono la stragrande maggioranza, è welfare aziendale, io credo che diamo una mano anche al commercio con queste convenzioni che garantisce un certo numero di... quasi tutti sono di Busto quindi credo che i negozi, i commercianti dovrebbero essere contenti di questa ipotesi. I dipendenti del comune finora sono rimasti contenti? Sì, 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 non se ne aspettavano e quindi sono rimasti contenti e quindi speriamo che questo ulteriore pello che fra l'altro anche l'Ascol ha fatto più di una volta, sono questi risultati insomma, ne abbiamo bisogno di altri ecco. E sempre a Busto Arsizio ma per parlare di spettacoli con il successo delle band musicali che propongono grandi successi del passato. Accompagnano gli spettatori in un viaggio nella storia di un cantante, nei suoi successi, che spesso fanno rima con la colonna sonora della giovinezza di intere generazioni. Sono gli spettacoli proposti dalle cover band, negli ultimi tempi graditi al pubblico richiesti, tanto che nella programmazione della stagione teatrale del Manzoni di Busto occupano ben quattro date. Dal recente omaggio a Battisti si passerà al ricordo di Lucio Dalla, che sarà portato in scena il 9 marzo da Dario Ballantini, e per finire, nel mese di aprile, il tributo ai Queen e a Fabrizio D'Andrea. Spettacoli graditi non solo da un pubblico di nostalgici, ma anche da coloro che desiderano scoprire repertori, aneduti e curiosità di grandi artisti che hanno fatto la storia della musica. La gente in questo periodo ha voglia di vagarsi, divertirsi, oltre a classico teatro, apprezza molto anche questi spettacoli di cover, che non è facile trovare dei concerti che abbiano a tema questa musica. Poi la musica dal vivo ha una sua valenza particolare, e quindi per questo che abbiamo pensato sia di inserirla in stagione, sia comunque in un programma più allungato di stagione, quali sono gli spettacoli che faremo ad aprile, che hanno sempre appunto come tema gli spettacoli musicali cover, chiamiamo così cover band, che replicano quello che erano appunto le grandi compagnie, i grandi cantanti di qualche anno fa. Ed ora la nostra pagina sportiva, iniziamo con il calcio, pronto per la sfida con l'Albenga, il città di Varese intende tenere alto il morale in campionato. La vittoria sull'RG Ticino ha lasciato in eredità al Varese un giorno extra di riposo che Mr. Cotta ha voluto regalare alla squadra per iniziare a preparare da quest'oggi la trasferta di Albenga in programma fra due settimane. Per lasciare spazio alla rappresentativa alla via Reggio Cap, la Serie D si prenderà infatti un weekend di riposo, l'appuntamento con il campionato tornerà domenica 18 febbraio. Nel frattempo il giudice sportivo ha respinto il ricorso del Bra nei confronti dell'Alcione per la presunta irregolarità del tesseramento di Diop. Nessuna penalità per i milanesi che restano così a più 12 sui biancorossi e vedono la Serie C più vicina. Poco male per il Varese che, accantonati i segni di gloria, si concentrerà a chiudere nel migliore dei modi la stagione per difendere il piazzamento playoff. Primi step contro Albenga e Fezzanese. Imperativo invertire il trend in trasferta e trovare le prime vittorie stagionali in Liguria, regione fin qui stregata per il Varese. La storica pugilistica gallaratese cambia vertice il nuovo presidente Marco Gorlini. Era il 1924, cento anni fa, quando nacque la storica Accademia Pugilistica Gallaratese nello scantinato della biblioteca Maino di Gallarate, ad opera di alcuni giovani guidati da Franco Garzonio. Nel 1947, già trasferita al Teatro del Popolo, viene iscritta la federazione. Oggi, dopo varie vicissitudini, ma anche tanti importanti traguardi con la nuova denominazione Thunderbox Team Gallaratese, ha un nuovo presidente Marco Gorlini. Devo dire che sono molto onorato di essere il presidente di questa storica pugilistica gallaratese che ha forgiato, che ha generato dei campioni regionali, campioni italiani, campioni europei. Negli ultimi anni, grazie all'impegno del maestro Ronzoni, si punta a risalire negli alti livelli del pugilato italiano. L'anno scorso l'adesione al manifesto dei colpitori di Federica Guglielmini e Dome Bulfaro per promuovere valori e cultura della nobile arte, l'apertura di una seconda sede a Pombia e diversi progetti in cantiere. Tra le altre iniziative, aprire un percorso giovanile, in parte già attivo, per diffondere l'idea che l'impegno, il rispetto e il sacrificio fanno crescere persone con carattere forte e responsabili. Un altro progetto è quello di riproporre nella nostra città una o più riunioni di pugilato come accadeva un tempo, proprio perché la pugilistica gallaratese è un pezzo di storia di gallarate. Ed è tutto per questa edizione del Tg, ma prima di salutarvi vi ricordo gli appuntamenti per questa sera. Alle 21 con Mi piace e tocca, alle 21.30 con Vento di passione e poi alle 23.30 una famiglia quasi perfetta. Grazie per l'attenzione, a voi tutti una buona serata con Rete55.